il gas lo potremmo prendere in realtà scripiamolo per quello che è si spingere il tasto in giù bravo oh è arrivato il gas no 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 sbagliamo 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 veloce eh via 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 un nemico nell'area, sta arrivando un nemico, attenzione in alto sul tetto sul tetto la testa è da solo la sopra ti eh si cazzo attacco aereo no bello c'è l'acqua qua, potremmo rimanere sull'acqua andiamo giù sott'acqua nemici rilevati, posizioni marcate via vieni qua stai occhio là che ce n'era uno questo non lo devo portare in casa ho fatto, ho fatto niente troppo ho fatto niente troppo no l'hanno fatto stai no 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 come cazzo sei salvato mano è autoressa c'è un'appertuata ancora, c'è un'appertuata un bravo che bene per mio soccorso occhio ci stanno atti qua sotto eh mi senti? si eccomi dove stiamo uscendo? ecco, ecco, ecco dove stavo? è là dietro vado qui orca troia oh occhio sta entrando pure da là eh se ne riusciava un carto, se ne riusciava eh cazzo, ho il te la trovata la maschera oro se è beccata sto stronzo cazzo 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 nemico distrutto i suoi amici sono marcati sulla mappa tattica compagno tornato in campo ben fatto presto versaglio a terra marco i suoi compagni Oh Cristo Non mi sono accorto del gas Fa culo Ottima uccisione Grazie a tutti Mi sono ritocati 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 Secondo secondo Mi sono ritocati Mi sono ritocati